La nostra storia inizia il 1 luglio del 1923, quando fu costituito il Servizio Chimico Militare. Sono passati 98 anni ed oggi le nostre unità specialistiche, dorate di mezzi, di equipaggiamenti, voluti e strumentazioni all'avanguardia, sono costantemente impiegate nelle operazioni militari, in patria e all'estero, per fronteggiare la minaccia clinica, biologica, radiologica e nucleare, garantendo la protezione del personale e delle nostre forze armate. Unità che si distinguono per la capacità di affrontare le mutevoli minacce di odierni scenari operativi, in sinergia con le altre componenti delle forze armate e con le organizzazioni dello Stato preposte a fronteggiare le emergenze sul territorio nazionale, come il contributo determinante fornito nell'ambito delle attività di risposta all'emergenza legata al Covid-19. Uomini e donne dotati di altissima professionalità ed umanità, pronti ad affrontare sfide sempre più impegnative. Da 98 anni orgogliosamente al servizio della Nazione. Grazie.